Segno 7, rubrica settimanale socio-religiosa in diretta, a cura di Paolo Bonci. Buonasera e benvenuti a questa venticinquesima puntata della trentaduesima edizione di Segno 7. Siamo nella settimana santa, oggi nella cattedrale di Fiesole di fatto è cominciato il Giovedì Santo con la celebrazione della messa crismale, della benedizione degli oli che di per sé sarebbe la messa tipica del Giovedì Santo, della mattina del Giovedì Santo. Il momento in cui tutti i sacerdoti della Diocesi si riuniscono intorno alla cattedra del Vescovo e avviene quel rito toccante e poetico anche della benedizione degli oli e della consacrazione del Crisma, ovvero gli oli che poi serviranno per la vita della comunità diocesana e poi quindi a scendere delle varie comunità parrocchiali. Stiamo aspettando l'arrivo del nostro ospite, il Vescovo di Fiesole ha trovato dei rallentamenti in autostrada ma sta arrivando. Comunque cominciamo questa puntata entrando subito nel tema, il titolo è quello consueto, è una delle trasmissioni tradizionali di Segno 7, conversazione pasquale. Entriamo subito nel tema della Pasqua mandando dei servizi che Giovanni Fantoni ha preparato partecipando alla festa delle palme, ovvero alla versione diocesana della giornata mondiale della Giovedì Santo, che abbiamo celebrato sabato scorso, il sabato antecedente appunto alla domenica delle palme all'oratorio di Figline Valdarno e poi con la messa in piazza Marsilio Ficino a Figline. Ecco intanto mandiamo il primo servizio che riguarda la festa dei ragazzi all'oratorio. Su le mani! Su, le mani! Su le mani! Suona la portetta come sai Sbaglia, il cuore è la fina che te hai E non credo la giusta più Un'idea di libertà Sbaglia, il cuore è la fina che te hai E hai la fina che te lo fai Un'idea di libertà Sbaglia, il cuore è la fina che te hai Un'applauso a questa, che non è stata fina che te hai Sto lasciando fuori, bravo, bravo, bravo Ma cosa ti sentiamo? Quando se ne vuole un coraggio nella pincita Non potresti stare bene a guardare E a vedere le tasse, i proiettini di amore A farlo di potenza, a fare il suo valore Conservo le armi, conservo la natura Liberato passo, per camminare insieme Davide e ragazzo, con i tuoi cinque sorrisi Suona la coscienza, atto messai! Soglia, quel cuore il nostro canale Che respeto nel tuo nasce Si unica e l'intervenzione Soglia, quel cuore il nostro canale Mi ha saputo il nostro canale Vivi nel senso e non è l'unione Mi ha perso di titanium E non è l'intervenzione Che lo sta improvvolando Che il nostro canale Cal留ato dopo il nostro canale Ma è l'intervenzione Che il nostro canale Benvenuti i ragazzi Chiar movie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, ben arrivato, un po' di corsa, però è con noi. Abbiamo cominciato facendo vedere delle immagini della festa che si è svolta sabato all'oratorio. Quindi in questa puntata parliamo della Pasqua, della Settimana Santa che ci porta alla Pasqua e quindi abbiamo iniziato con l'inizio delle celebrazioni che abbiamo fatto appunto a fine. Bene, è arrivato di corsa, ne faccio prendere un altro modificato, mando anche subito il secondo servizio che è sempre riguardante la festa delle palme. Vediamo almeno l'inizio della processione, almeno prego la regia di mandare il servizio. Grazie. 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 Buonizio. Grazie. 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 28 dal momento finale . o Domenica di Passione, una liturgia bipartita, si passa dal trionfo dell'ingresso in Gerusalemme alla tristezza della croce al momento della morte. Quindi in qualche modo si racchiude già nella settimana, nella Domenica delle Palme un po' quello ci prepara a quello che stiamo per vivere. Certo, buonasera a tutti e mi scuso del ritardo ma qualche intoppo in autostrada penso sia capitato anche ai telespettatori. Me lo scuso veramente. La Domenica delle Palme, sì è vero, ha questa bipolarità, ha questa doppia prospettiva che se ci ripensiamo bene è anche un po' la difficoltà che tante volte ciascuno di noi incontra nella vita, la difficoltà che vediamo continuamente nella storia. Si passa spesso dagli alti ai bassi, da una grande stima a momenti di grosse difficoltà, da esaltazioni a umiliazioni. Questo capita un pochettino a tutti. È significativo che nella stessa Domenica la liturgia ci voglia per un verso, fa ricordare quello che è accaduto prima della Pasqua con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gesù entra trionfante, acclamato da tutti. E al tempo stesso poi ci petta davanti quello che accadrà durante la settimana, tutto il racconto della passione. A me fa impressione un fatto. La gente prima lo acclama, osanna, benedetto, e dopo gli grida contro. Sono le stesse persone? Non tutte, certamente, ma molte di loro sì. Allora, a seconda chi è che sobilla, la gente si comporta in maniera diversa? E di fronte c'è la medesima figura di Gesù, lui, che sa accogliere il momento bello della gioia, ma si rende anche conto e sa annunciare il momento triste della croce. È un bel insegnamento. Il coglierle insieme, il celebrarele insieme, ci dà una bella prospettiva di vita. Nessuno di noi si può mai montare la testa quando le cose vanno molto bene, però nessuno deve anche sentirsi solo nel momento della prova. L'uno e l'altro. Tanto più che poi entrambe prevedono l'alba della risurrezione. E quindi seguiremo poi questo cammino anche in questa puntata. Però ora partiamo appunto dall'inizio, rimaniamo un attimo all'aspetto del trionfo, all'aspetto della gioia. Giovanni Paolo II ha avuto la grandissima intuizione delle giornate mondiali della gioventù, anche se era un cammino che si stava già preparando, se si leggono i documenti già prima di Giovanni Paolo II, già Paolo VI ebbe un po' questa idea. Però indipendentemente da questo, la giornata mondiale della gioventù viene a legarsi al momento della Domenica delle Palme. Ecco, vorrei soffermarmi un attimo sul messaggio di Papa Francesco ai giovani per quest'anno. Il titolo, non temere Maria perché hai provato grazia presso Dio. Questo messaggio, prima di entrare proprio nei nuclei del messaggio, si pone espressamente, nelle prime parole lo dice, Nell'ottica della prossima assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi, i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Ora io chiedo a Monsignor Meini, Vescovi, Vice Presidente della CEI, quali sono le urgenze che i Vescovi vedono su questo tema, su questo tema che andranno poi a dibattere in assemblea ordinaria. Come si stanno preparando i Vescovi a discuterne? Ma intanto perché la giornata mondiale è legata alla Domenica delle Palme? Perché il Vangelo stesso racconta che i giovani ebrei acclamavano Gesù. Pueri ebreori, ma la famosa antifona. Quindi legata a quello, se i giovani di allora, perché non i giovani di oggi? E la proposta così è venuta. E così poi progressivamente è maturata, si è approfondita e siamo alle cose di oggi. Il Sinodo invece, dopo il Sinodo sulla famiglia, dopo che si è parlato a più riprese, a due riprese sulla famiglia, Papa Francesco ha voluto che si parlasse dei giovani. In continuità, perché i giovani non sono un ente a sé stante, vivono in famiglia, sono legati alle proprie famiglie, anche se poi, chiaro, devono fare il proprio salto nella società e nella storia. Però legato alle famiglie, i giovani, è interpellare i giovani. In questi giorni si è svolto a Roma, proprio prima della giornata delle Palme, la settimana scorsa, un pre-sinodo per sentire alcuni gruppi, categorie di giovani, che cosa loro stessi suggeriscono. Prima ancora di essere i Vescovi a parlare dei giovani, a mio avviso è molto bello che possano essere i giovani a parlare dei Vescovi. Che cosa vi aspettate da noi? Come la Chiesa vi può essere di aiuto? Voi giovani che vivete nella Chiesa, quale istanze sentite? Quali sono le cose più importanti per voi? Ecco, metterci in questo dialogo, in questo ascolto, credo che sia profondamente importante. E poi vedere i giovani come risorsa, sentirli come risorsa. E allora è stata fatta un'inchiesta in tutte le diocesi del mondo. Chi ha voluto, chi ha potuto, ha risposto. Sono stati mandati tantissimi contributi. È chiaro che vengono vagliati, vengono messi in sintesi per poi giungere a una discussione sui delegati, alcuni Vescovi delegati da tutto il mondo saranno circa 300, per vedere che cosa possono rispondere alle istanze che i giovani hanno manifestato. Ma questo osmosi, questo dialogo, questo credo che sia importante, perché se pensiamo di fare solo delle prediche ai giovani, siamo fuori luogo. Credo che dobbiamo ascoltare, sono profeti, sanno dire tanto se vogliono. E vediamo cosa Papa Francesco dice ai giovani. Volevo soffermarmi in particolare su tre nuclei del messaggio. Il discernimento che nasce dal dialogo, la grazia e il coraggio. Questi sono un po' i tre nuclei. Come pensa che queste parole parlino non tanto ai giovani del mondo, ma ai suoi giovani fiesolani? Non è semplice, perché la prima cosa importante è avere un linguaggio che si mette in sintonia con i giovani. Il linguaggio di oggi dei nativi digitali, il linguaggio dei giovani che hanno le loro attese, le loro speranze. Per me, adulto, ormai anziano, non è facile avere questo linguaggio. Al tempo stesso, però, è bello anche poter dire, ragazzi, voi siete capaci di discernimento. Siete capaci di saper leggere la storia, di saper interpretare il vostro futuro. Come vi possiamo aiutare? Ma il discernimento va fatto insieme. Non è che lo possiamo fare noi adulti per i giovani. Anzi, credo che spesso siano proprio i giovani a aiutare noi adulti a saper leggere la storia. Far sentire che i ragazzi sono protagonisti e non solo resti natari. Questo mi pare la prima cosa importante. La grazia. La grazia vuol dire che è il primato di Dio. È Dio che viene incontro. Si fa incontro a giovani, si fa incontro agli adulti, a tutti. Dio non è un estraneo. È uno che ti viene incontro e che ti solleva. Potersi mettere in dialogo con Lui. Questo è importante. Più che con noi, con Lui. E mi fa piacere di una cosa. Pensare, e l'ho toccato con mano tante volte, che i nostri ragazzi, i nostri giovani, sentono Dio spesso molto più vicino di quanto noi ci immaginiamo. Magari un'idea di Dio meno in carta piccolita della nostra, più vivace, più istantanea, forse anche più bella sotto certi aspetti. E in questo possano aiutare noi a fare discernimento. Loro stessi sono un dono di grazia. E poi? E poi? Il coraggio. Il coraggio. Io mi ricordo, così per ridere, ho partecipato a varie messe di ingresso di miei amici, che poi sono diventati sacerdoti. E lei ha loro affidato una parrocchia. Questa parola, coraggio, l'ho sempre sentita. Sì. Ma già nella Bibbia, questa qui la ritroviamo, solo abbi coraggio, dice il giovane Gesù, Dio. Vai, vai tranquillo, solo abbi coraggio. Vai dritto, non aver paura, io sono con te. Neemia, Esdra, coraggio Esdra, coraggio Neemia nel riedificare. Coraggio ai giovani di oggi, che poi ce l'hanno anche. Sono molti di loro che danno vera prova di coraggio, perché sono tenaci. Ci saranno anche giovani fragili, tante fragilità in loro. Però ci sono anche tanti giovani tenaci che sanno mostrare veramente forza per vivere. E sanno guardare avanti con tenacia. Io credo che il coraggio ce l'abbiamo dentro. E questa è la grazia. Cioè discernimento, grazia, coraggio, non sono tre parole o tre eventi staccati fra loro. Sono la medesima realtà. Il Signore che interviene ti fa grazia, come? Facendoti capire e dandoti la forza di perseguirlo. Io sono convinto che tanti giovani ci danno un bel esempio a questo riguardo. Come è successo a Maria, che il Papa giustamente mette davanti ai giovani. Vi rileggo il titolo. Non temere, Maria hai trovato grazia presso di lui. Ovvero ha utilizzato proprio le parole del Vangelo di Luca, Papa Francesco, per rivolgersi ai giovani. Quindi Maria da questo punto è paradigma per i giovani. Papa Francesco la mette come paradigma per i giovani. Vorrei però vedere, ora cominciare a parlare veramente della settimana santa. Posso prima una piccola cosa, proprio riguardo a Maria. Come c'era il Presidente dei Vangeli, una ragazzina molto giovane, sposavano molto presto le ragazze ebrei all'epoca. Non sciocca, si pone i problemi. Come è possibile? Chiede spiegazioni, chiede un segno. Poi però la disponibilità. Eccomi, ci sono, eccolo il coraggio. Cioè, una ragazza che affronta una maternità, quindi che affronta una missione di vita, senza paura. Chiedendo segni, spiegazioni, però quell'invito, non temere, se lo prende tutto. E credo che possa dir tanto ai giovani e a noi adulti, a tutti insieme. Una figura viva, Maria. Maria, cosa insegna? Abbiamo visto il Papa la pone di fronte ai giovani. Ma a ognuno di noi, a ogni cristiano, cosa ci insegna Maria, in particolare per quanto riguarda il nostro vivere la settimana santa? Eh, la fedeltà a quel punto, perché Maria nella settimana santa compare nel Vangelo di Giovanni sotto la croce. Stava sotto la croce di Gesù, Maria, sua madre, le altre donne. Cosa mi dice? Di una mamma, ormai non più giovanissima, è chiaro, aveva il figlio grande, di una mamma che sa stare anche nel momento della sofferenza. Ha stabilità anche nel momento della sofferenza. Mi fa pensare a tutti i miei scoraggiamenti, a tutte le piccole cose di ogni giorno e vedere invece questa donna che è lì sotto la croce del figlio, condannato ingiustamente, sofferente in una maniera più atroce possibile. Lei sta là, non lo abbandona, c'è, ha fiducia in lui, lo sostiene. Questo mi sembra meraviglioso. Una donna forte. La settimana santa di Maria mi pare proprio lì, cioè donna forte accanto al figlio. Non si sviene, non lo abbandona. C'è, ci sta. Dicevo nell'introduzione che anch'io oggi sono salito a Fiesole, abbiamo anticipato l'inizio del giovedì santo. Oggi c'è stata la messa chismale, quindi la benedizione degli oli, tutti i sacerdoti riuniti intorno alla cattedra del Vescovo. Le chiederei se può riassumere un po' ai nostri telespettatori, molti dei quali magari non sono potuti salire a Fiesole, un po' qual è stata la sua riflessione in occasione della messa chismale quest'anno. Ma in maniera molto breve lo faccio volentieri. Pensando all'olio dei malati ho pensato a tutti coloro che soffrono, ai malati nelle case, negli ospedali, ma anche ai poveri, a coloro che non hanno casa, che non hanno lavoro. Ce ne sono tanti, tante persone che soffrono, che il balsamo della grazia dello Spirito Santo posso essere di sollievo, di aiuto a tutti, a quello dove noi non sappiamo arrivare, la grazia dello Spirito Santo possa giungere. Benedicendo l'olio per i catecumeni e quindi la lotta nella tentazione, sto pensando a tutte le persone in difficoltà e particolarmente a cristiani in Terra Santa, da cristiani perseguitati da tante parti del mondo. Noi tutto sommato stiamo anche abbastanza bene, ma tante persone sono perseguitate per la giustizia e tanti cristiani sono perseguitati a motivo della fede. Quindi una solidarietà con tutti mi sembrava davvero importante. E poi nel pensare al Crisma, alla nostra dignità di cristiani, alla nostra consacrazione, mi veniva da pensare alle nostre incongruenze, alle nostre negligenze, ai nostri peccati. Dobbiamo pensare chi siamo, chi dovremmo essere e quindi allora come dire che la grazia dello Spirito Santo ci venga a sanare interiormente, a ricordarci il Vangelo, a darci coraggio per poterlo vivere. Un invito per tutti era fare un po' un check-up spirituale a Pasqua. Alludevo chiaramente alla confessione pasquale, ma non fatta così per fare come un piccolo rito, ma proprio come un lasciarci per evadere interiormente, per riconoscere chi siamo, chi dovremmo essere, chi possiamo essere, grazie a Dio. Rivedere la nostra dignità e ripartire con gioia, con entusiasmo. Poi i sacerdoti hanno rinnovato le promesse della loro ordinazione. Un momento anche molto bello. Erano tanti, ma hanno commosso. Il Sacrismale quindi ha un ruolo importante nella vita della Diocesi. Sì, perché benediciamo gli oli che poi serviranno per tutto l'anno, per i battesimi, per i malati, ma l'olio che è il Crisma che userò per la Cresima, per le ordinazioni dei sacerdoti, lo userò se fosse sia al caso per consacrare gli altari o le chiese. Quindi è un po' la prospettiva sacramentale di tutto l'anno. L'inizio della Pasqua in ogni cattedrale. Vorrei aspettare un attimo a entrare nel triduo, perché vorrei non rompere io stesso con la pubblicità la grandezza del triduo. Però abbiamo ancora due minuti prima della pubblicità. Però la domanda riguarda già il triduo. Come è possibile comprendere l'unitarietà di questa lunga liturgia che per o male comincia il pomeriggio e il giovedì e finisce la notte di Pasqua? Mentre ascolto questo mi viene in mente un detto medievale, il cucù, l'orologio della passione. Un modo di dare devozione popolare è fatto in questo senso. A quest'ora Gesù faceva. A quest'ora Gesù faceva. Cioè era un orologio, come dire, no? Un invito per la gente, anche molto semplice, ma per tutti, a rivivere momento dopo momento tutto quello che il Vangelo racconta e che Gesù ha vissuto in quel periodo. No. Scorrendo questo l'unitarietà avviene. Poi ne riparliamo. E poi, appunto, è anche la parte dei Vangeli che è proprio più dettagliata. Più dettagliata. La prima a essere stata scritta. Sappiamo veramente ora per ora che cosa è successo. La prima a essere stata scritta, la più dettagliata, quella anche più viva, testimoniata più direttamente. Poi il resto dei Vangeli sono una forma che è più composta in seguito, ma la passione è proprio diretta. Era il ricordo ultimo e quello più vivo. Certo. Pensiamo al giovinetto nudo di quest'anno. Ricca di tutti i vari racconti della passione sono sempre ricchi di… Di sembrare cronaca, però poi ogni episodio ha la sua ricchezza e anche la sua indicazione spirituale. Bene, come vi anticipavo, la parte del triduo però ne parliamo per bene dopo la pubblicità in modo da mantenerlo unito come la liturgia ci suggerisce. Ci vediamo tra qualche minuto. Bentornati in studio per questa conversazione pasquale con Monsignor Mario Meini. Siamo arrivati a parlare del triduo pasquale. Cominciamo quindi con la messa in cena domini. Il messaggio centrale, il mandato dell'amore, che poi si declina nell'istituzione dell'eucaristia e del sacerdozio. Cosa non possiamo noi cristiani, partecipando alla messa in cena domini, non portare a casa? È interessante questo abbinamento. Mi fa venire in mente, vicino al luogo dove io sono nato, c'è un convento francescano dove i frati avevano fatto delle piccole cappelle per ricostruire in miniatura Gerusalemme a San Vivaldo, il comune Montaiono a San Vivaldo, con delle bellissime robbiane di inizio 500. Hanno ricostruito un po' Gerusalemme per i contadini boscaioli del posto che ovviamente non potevano recarsi in pellegrinaggio in terra santa, ma potevano fare un pellegrinaggio lì. E quando si arriva al Cenacolo si trovano nella stessa cappella non una robbiana, ma due abbinate, gemelle. C'è la lavanda dei piedi e c'è Gesù che spezza il pane e lo dà ai suoi discepoli. Sotto certi aspetti è la stessa cosa. Gesù che dà se stesso in cibo ai discepoli è la comunione pasquale. Gesù che dà la sua vita, si toglie la veste, dà la sua vita per mettersi al servizio dei fratelli. Lavare i piedi, nella consuetudine ebraica di allora, era il gesto di accoglienza che faceva il servo, non il padrone di casa. Veniva accolto l'ospite e il servo lavava i piedi. Gesù si fa servo di tutti, si mette a disposizione dalla sua vita. Tornando a casa dal giovedì santo, quel che non si può perdere è per un verso la comunione pasquale. Ho fatto Pasqua col Signore, mi sono nutrito del suo corpo, ho preso il corpo che Lui ha dato a me in comunione e per un altro, se il Signore si è fatto a servizio, anche io mi devo mettere a servizio degli altri. Come Lui ha amato me, io devo amare gli altri. L'eucalistia e l'amore, la comunione e il servizio. È un insieme. Tutto mi devo portare a casa. E passiamo al venerdì santo. L'azione liturgica in passione e morte domini. Uno dei momenti, e mi si permetta, esprimo la mia opinione, che nella sua austerità e essenzialità è forse dei più belli di tutto e toccanti dell'intero anno liturgico. È anche un momento di estrema sintesi. Gesù, che è il re nella Domenica delle Palme, Cristo, l'unto nella Messa del Crismo, ha celebrato la Pasqua con i suoi, in questo momento ci viene presentato come il vero agnello pasquale. Al contempo però rischia, proprio per queste sue caratteristiche, di risultare anche poco attraente, perché è una liturgia dura. Siamo sinceri. Come un sacerdote, come un vescovo può tentare di farne riassaporare il gusto, specie in un momento storico come quello che viviamo, dove siamo abituati a avere tutto e subito, quindi anche fermarsi a riflettere sulla durezza della vita, e di un momento non è facile. Ma intanto vorrei dire come liturgia ha un suo fascino, un fascino molto austero, però non è una delle liturgie più antiche. Anzi, si è sviluppata praticamente nel secondo millennio, o poco prima. In antico, il Venerdì Santo, era un giorno senza l'azione liturgica. Non c'era la Messa, non c'era nulla. La preghiera era proprio nel silenzio, nella contemplazione del mistero di Cristo morto. Poi si è sviluppata quella liturgia. È difficile perché è difficile il mistero della morte. È difficile perché è difficile il mistero della croce. In pratica, tutto si svolge intorno alla lettura della passione e all'adorazione della croce. È là. Poi, per richiamo, si distribuisce anche la comunione, si dà la comunione con le ostie consacrate il giorno avanti, il Giovedì Santo, per mettere in evidenza il legame fra i due giorni. Però di per sé l'essenziale sarebbe proprio la passione, l'ascolto del racconto della passione e l'adorazione della croce. Questo non diventerà mai una liturgia popolare. Nella mia esperienza, quel che ho visto una volta diventare più di popolo questa liturgia è stato in un momento dire quasi curioso. Ero giovane prete, andai a sostituire un parroco in una parrocchia piccolissima, veramente piccolissima, perché non c'era, non era possibile. E però avevo solo un momento dopo cena dove quella gente era abituata a fare la processione popolare, però non era abituata alla liturgia. E in quel momento feci un fatto un po' più a così, a fantasia, cerca di mettere insieme le due cose. In chiesa feci la lettura della passione, poi feci fare la processione per il piccolo paese e la gente ne fu veramente contenta, soddisfatta, perché era la loro tradizione, rientrando in chiesa feci terminare tutti col bacio della croce. E fu un momento veramente anche solenne e popolare. Forse è stata l'unica volta in cui in vita mia ho visto quella liturgia del Venerdì Santo veramente partecipata dal popolo. Altre volte invece il popolo si riversa soprattutto nel doposcena del Venerdì Santo in alcune o via crucis o altre celebrazioni di carattere popolare, rievocazione della passione. Proprio quando ho abitato in Maremma c'erano alcune forme molto forti a questo riguardo e allora la rivoluzione popolare direi esplode, si scatena. mandò ora un nuovo servizio preparato da Alessandro Gambassi stiamo parlando del Venerdì Santo e abbiamo appunto il servizio sulle croci nell'arte quindi è anche qualcosa a che vedere con il popolo appunto su come il popolo ha visto anche le croci. a che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.